Poi andavamo a casa ad Addis Abeba con un camion trasformato a bus con le cose. Quanti eravate ragazzi? All'inizio quarto ginnasio eravamo una decina, poi man mano sono diventati di più e quando sono arrivata al liceo eravamo una bella quantità. Quindici, sedici, eravamo una passeggiata e basta. Sempre da soli? Sì, abbiamo fatto amicizia con una persona ma stava molto lontano per cui siamo andati una volta sola e anche loro una volta sola da me.